Non un passo indietro, ma un passo di fianco. Claudio Pizzi non sarà il candidato della lista Insieme per Casale alle prossime elezioni amministrative. Dopo 15 anni da sindaco e 5 da vice sindaco, rimarrà comunque nella lista a sostegno di Gabriele Falcione. Sì, sì, è proprio quello che abbiamo deciso, anche perché abbiamo avuto la fortuna, appunto, ho avuto la fortuna di avere un paio di giovani che sono cresciuti insieme a me in questi 5 anni e hanno dimostrato il loro impegno e la loro capacità di analizzare tanti problemi e soprattutto la loro onestà, perché noi ci teniamo molto a questi principi. E quindi a questo punto io ho ritenuto utile fare un passo di fianco, come dici tu, perché giustamente mi hanno chiesto di ricoprire ancora la carica di vice sindaco per almeno i prossimi 5 anni. Investitura ufficiale per Gabriele Falcione, pronto alla sfida? Sì, sono pronto. Nelle scorse settimane il nostro gruppo di Insieme per Casale si è riunito, ci siamo trovati ed è emerso il mio nome e di conseguenza sono pronto, ho accettato questa sfida e quindi alle prossime elezioni dell'8 e 9 giugno sarò io il nome del candidato sindaco. Continuità è la parola magica? Sì, continuità perché da un lato il mio ruolo attuale di assessore lavori pubblici, quindi sono già all'interno dell'amministrazione, conto di portare avanti quelli che sono i progetti che abbiamo iniziato e addirittura iniziare con dei nuovi progetti, con dei nuovi obiettivi. Purtroppo continuità perché come abbiamo già deciso Claudio Pizzi, l'attuale sindaco, continuerà a darci una mano all'interno del nostro gruppo, all'interno della lista e all'interno anche della giunta e quindi siamo molto contenti che la sua esperienza sarà a nostra disposizione perché insomma 20 anni di esperienza sono molto importanti, ci aiuterà in questo percorso. Sarà un accorso solitario o ci sarà anche un avversario? Al momento ci siamo presentati noi, non lo sappiamo, storicamente Casale Cortecero ha avuto almeno due liste.